Dimmi un gioco che ti fa caccare maestro Among Us Ecco preferirei giocare a quello Di sicuro? Per quale motivo? Nel senso uno deve andare a pensare di Among Us Non abbiamo preso Io buco sopra Era come quel giorno in cui c'erano le sdrogo corse Che io sono stato male No c'è uno qua Dio Sei tu qua? Io vado da là No ragazzi c'è la camera di maestro Ma Ed è scale sopra ragazzi Forse è meglio se non Scali sopra Drago Scali sopra Drago C'è Solis È la mia camera esattamente nel giallo Ti fa maestro dietro Attento maestro è sopra di te maestro Friendly last operator standing Eh mica l'ho capito questa cosa Ma ragazzi c'è voi dite maestro io penso al champion non a me Io di maestro ne fa uno solo Ancora su Drago lui eh Ok Anche il te l'ha detto Eh però era dall'altra parte la mappa raga Scende scale Scende scale piano Non l'ho visto dove cazzo era? Tutto lei qua raga Raga non l'ho visto Non l'ho proprio visto Ma al solito di là fanno tutti cagare Tranne uno E' proprio questo freno Ah ragazzi Eh non se non posso giocare Io penso che questa sia la persona più forte Che abbia mai messo su uno E' uno proprio lì nel corredore Rook L'ho spottato e cazzo Ma come è possibile Che questo coso non passa lì Jesus Oh va graffi di 3 PORCO DOC Vabbè ma questo qua è proprio E' uno dietro Quelli 6 Stanno qui Uno sta dietro la botta L'amico ridò io c'era il Rook Sta giocando da solo C'è anche mini cap can everywhere La gabbò qui dentro Nella prima stanza non c'è nessuno Vabbè Mi vede prima lui A sinistra Uno è cosa il ping 5 E' lo smoke Occhio Bravo Ti puscia dalla porta Ti puscia sulla porta Ok sto tornando back Sto tornando back Ti dico se ti puscia l'altro Occhio ti puscia l'altro Eh no Regà non fa rumore questo tipo Ma voi lo sentivate No ma è quello E' quello che non può morire Io continuavo a non sentirlo Sto qua Apri tab e fatti una risata Cioè nel senso E' uominarmi letteralmente Non li puoi fare niente Sorry Marzo Non ti preoccupare Cos'è che t'ho Caveira Però mi hai fatto Olis su ping 5 Caveira è qui Ma siamo fatti tutti di pietra Caveira sul 3 Carli drago Riguardo il flank Ash Ho fatto il c***o Ragazzo in sight Ok c'è Rook col pompa Non so dov'è maestro Ah c'è dietro Ah c'è dietro Bravi bravi Madonna come l'ho calcolato Guardate Ah regà letteralmente Ammatti quello Stanno pace What? Eh stava facendo il giro Allora ho detto Sparulli che passerà Ah voglio anche Certo Che si può rompere qua Non ho rotto quel c***o Porca c***o Mi è spaventata male Della finestra Oh hai fatto L'ingaricita No Mi stavo per fare pure ash Gianco da dove per piace? Eh sono fuori mappa ma è inutile anche dirtelo Metà vita C'è un drago? C'è un blitz maestro No è un feud con lo scudo Dove c'è il mio giallo Guarda a destra maestro c'è il mio giallo Ci sto andando E qui qui sta fizzando ma è stato Lo puoi fare se vai piano Ci avete fizzato Un secondo Sto andando qui in corridoio Esce drago esce drago E blitz sopra scale drago Sono tutte e due in questa zona Tutte e due qui E li becchi uno davanti Dello scudo mi stanno Ok E' rimasto soltanto Il feud Ma c'è Ma porco c***o Ma io ho fatto tutto il giro E gettane su Sei lento Sei lento Ma ma se corro Mi sentono No no Devi correre O camminare al momento giusto Occhio bottino Dove sei tu Valchie Sì sono io bottino C'è uno con la finestra Bravo Bravo Felipe Che chill fratello Ma raga c'è sta quello che mette lo scudo E cosa Sul tre E sul tre E sul tre Sono in due sul tre No ragazzi No Sledge è fortissimo Che posso mettere che c***o va Ragazzi c'è stanno tutte le mie cam Sì ok Lui io vengo irritato Lui no Ok In cinque c'è Sledge Quello fortissimo Boys Sono in due Sull'impalcatura Maverick sta cercando di aprire Per passare da cavo Una quarta Una quarta Puscia Asce Bravo Sono tutte e due sul pink 5 Sul pink 5 Sono entrati dentro Sledge qui Sta entrando su A Credo Ma perché ci ha messo tutto quel delay per morire Osa L'avete visto No io non sto guardando Sì no sì sì ci ha messo tipo tre secondi da quando Mamma mia il gianchista signori Mamma mia che campione Ma quella bottola che ho spaccato io dove c***o Ce l'avrai Ce l'avrai 700 No Era giusto Prima dell'ora Però hanno 530 40 lì No compreso la playstation Ah sulla playbone avrò Che posso piccare qua Più di 1500 forse Ah no e allora mi sono tenuto molto basso Oh ma è stato tantissimo Quante ore hai su play su rainbow No è un botto Più di 1000 sicuro Anche più di 2000 Sì Eri livello 300 Gianco Sono sette anni che ci gioco Giocava full main rainbow Zio ma Gianco era livello 300 qualcosa Pochissimo Mi sembra un po' esagerato Pochino Stavoli ribaltati sicuro Dove te Capcom Eh capito sta Stavoli ribaltati Dalle mie scale gialle Stavoli ribaltati raga No raga con la canna lunga madonna C'era uno scale gialle Gianchi Eh scale gialle si Ripro qualcuno Uno scudo anche Ah e niente raga Sono andati in bocca a Jackal Hanno briciato Il bomba C'era un drone Già che la salvezza Arrivano dal Come si dice Da Da destra Da destra Da destra Arrivano Eh lo so lo so È uno scudo Sono resettate Impossibile Se ti pusha ci sono In modo sulla destra Bravo Gianchi Sulla destra Jackal Site nostro di prima C'è i bana In questo È proprio lì Di fianco a te Ridge Merda Jackal È entrato dentro Bomba B In brandine Guarda il mio Del mio Coso Lì Vabbè Mira la porta E ti dico Se arriva dall'altra In teoria Rashid 17 ragazzi Un nome Una garanzia Menore che hai capito La porta Che ti dice Hanno quittato proprio Sono Il tilt del tilt Get carrier C'ha pure Il coraggio Il carri L'ha vinto Tutti i round Quello Porca Ma Scripili O più Get shot 78 giorni di gioco Quindi su Tipo 1900 Ragazzi Io guardo Che ci gioco Da un mese A rainbow six E il ciondo Che ciondolo Ma si vede Su rainbow six Tracker Bravo C'è anche 1900 ore Ma adesso Su play Io non lo so Vado a vedere Eh ma adesso Io tornavo da palestra Giocavo a questo Un applauso A questi A questi geni Del male Ehm Ehm Grazie a tutti.